in questo lavoro cerchiamo di salvare più persone possibili ragazzi sono veramente uforico a volte non vuol dire tutti sono ancora in stato di shock voglio che sia tu a guadagnare centinaia di migliaia di euro nei prossimi 30 giorni ok ora basta capitano le persone hanno paura ragazzi quando Alberto mi ha promesso di darmi 10.000 dollari cash sinceramente pensavo fosse uno scherzo questo non ti vorrà costare nulla veramente nemmeno un centesimo ma la sicurezza dipende da noi mi sono sbagliato su di te oh my god loro si sono sbagliati su di te mi mi ha detto non ti preoccupare potete crederci? ti prenderò per mano e ti guiderò verso centi hai appena iniziato una guerra sta giù ultimo avviso io non sono euforico va bene ho perso la pazienza inserisci i tuoi dati ora su questa pagina inserisci i tuoi